ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di sense game 8 e oggi siamo con la demo di sense of 4 come vedete grandissimo sense of 4 non ho ancora avuto non l'ho provato ancora non ho avuto modo di provarlo e ecco ce l'ho fatta perché questa praticamente come state leggendo l'inaugurazione tanto per far vedere come si crea il personaggio come la grafica del personaggio tutto lo stile del personaggio praticamente e niente ragazzi andiamo come vedete spogliato perché praticamente l'ho spogliato io perché sennò quando vado a fare la corporatura non si vede bene perché è vestito quindi l'ho spogliato e facciamo andiamo alla corporatura corpo stesso va bello lasciamo maschio razza si l'afro americano com'è no lo facciamo nostro dai corporatura guardate quanto è magro ragazzi ora facciamo ciccio bombo e ciccio bombo e ciccio bombo no dai lo facciamo bello pomposo spalle di muratore belle le lasciamo così abbronzatura niente dai e tagli facciamo così perché sennò poi è troppo vecchio sex appeal naturalmente al massimo al massimo perfetto volto non so ragazzi se dobbiamo perderci molto nel dettaglio perché sennò questo video dura mezz'ora quindi no dai gli facciamo solo il collo degli occhi gli facciamo così costano chiaro e dai questi no capelli signori testa allora 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 qua concentriamoci perché bisogna uh poli d sembra poli d sembra poli d no così ora gliele facciamo così grandissimo signori no dai pronunciatura seria ecco in questo modo tipo da cinesa pronta a preparare il sushi per noi cioè il taglio alla richard benson però non lo trovo ma forse l'ho già passato non so voler mettergli ragazzi non so voler mettergli grande da punk questo no andiamo avanti sbarazzino sergente sfumato stella da cinema vintage stile donne anni 50 sverga vintage supereroe supereroe grande lo facciamo supereroe ci facciamo rossi capelli rossi no no fanno schifo i capelli rossi rosa arancioni blu o viola o quello che è uh mi piacciono così li facciamo così bicolore ve lo un riaviso aspetta che gli ho visto no no mi sembra che avevo visto una barbassa vediamo così però cambiamo il colore negro e andiamo a fare come i capelli blu ecco in questo modo soprasciglia gli facciamo il monociglio no eeeh alla quello di tecno non mi ricordo come si chiama comunque li facciamo così dello stesso colore naturalmente no così era giusto quindi poi gli facciamo il trucco gli facciamo oh gli facciamo gli occhietti da panda dov'era che non me lo ricordo no non erano questi forse ombretto forse si occhietti da panda negri guarda eh mi è arrivato un messaggio opacità 100 guance sposa oddio ragazzi cosi ah no interrogo oggetti ah ci sono queste qua che sono carine sangue per tipo pestato morso pestato eh madonna cos'è questo? ah il cerotto no gli mettiamo questo oppure questo pestato no questo qua morso si lunghi ora gli anni ok andiamoci personalità una una voce questa però gli la facciamo più grossa e eh eh complimento uh l'esperienza l'impiastro carina pollice in su pietra d'argento cos'è questa roba pugni sul petto grande signorina ma cosa fa? solare ma perché questi movimenti? stordito su le mani su le mani bebe touchdown grande frio no no non mi piace vai così marinaio non so cosa sta facendo vabbè ma vai così marinaio adesso si balla questo qua gli mettiamo provocazione oh guardatelo guardatelo se ne va no questa mi piace troppo ragazzi poi esci si usciamo è ora di vestirlo ragazzi non credete che è ora di vestirlo? se non gli fa freddo testa i cappelli no l'aureola oh dio no i cappelli poi non mi piacciono perchè non si vedono i cappelli oh i cappelli di Goku cos'è cos'è dai dai no 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 i cappelli no ragazzi perchè non si vedono a meno che non gli mettiamo l'aureola gli mettiamo l'aureola che gli sta tanto bene eccola qua l'aureola equipaggia occhiali occhiali forse no perchè poi non si vedono non si vedono i gli occhi da panda questi signori però colore diverso celeste equipaggia ma guardate quanto lo sto facendo ridicolo ragazzi busto la cappatoio la cappatoio sexy armature eh madonna cosa deve fare con questi spuntoni bustino camicia camicia caraibica no 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 sì uh questa da zombo sembri uno zombo così sì gliela facciamo colore reggiseno gli mettiamo i capelli quelle per ricoprire i capezzoli collane quella questa qua gliela mettiamo non si vede tanto bene però gli mettiamo questa o questa no questa questa che è più grossa gliela mettiamo in oro perfetto ecco la paggia zaino gli mettiamo i misti dove ci sono io ci sono i misti una volta non ci sono più niente 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 zaino dai gambe no gambe gambe pantaloni dobbiamo trovare gli pantaloni i gli pantaloni madonna come parlo ragazzi i pantaloni da zombo se ci sono se non troviamo un paio così guardate che figo guardate che figo guardate che figo tantissimi ascoltate le canzoni pure che canzoni di lusso dumbstep oh non li trovo adatti a quella cosa che gli ho messo non li trovo così potrebbero andare no sono troppo stretti oh quale gli metto ragazzi quale gli metto sono finiti gli metto un paio di jeans e buonanotte ecco la paggia scarpe che è descalzo oh guardate questi fighi no no questi li li devo mettere sono troppo fighi biancheria e mettiamo il tanga no il tango è incitante eccolo qua ragazzi guardate il pacco oddio piercing piercing orecchio no 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 forse cos'è? l'altra parte antivampiro gli mettevamo antivampiro antivampiro però oro oro naturalmente oro anzi no gli antivampiro sono argento quindi gli mettiamo argento e come faccia persino volto guardate un toro questa questa e come faccia i polsi guardate i copricapezzoli guardate quanti sono fighi polso destro polso sinistro beh questo da rocchettaro equipaggia polso destro cosa gli mettiamo una fascia dai una fascia questa qua equipaggia tanto credo che non si vede ecco infatti anelli 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 saints dove sono stile saints equipaggia completi no completi ormai ormai l'abbiamo già vestito esci accetto ora ragazzi gli andiamo a fare i tatuaggi tatuaggi città madonna oddio oddio col tag sexy e con i copricapezzoli ma come l'abbiamo ridotto ragazzi testa viso no forse mi sono ma mi piacciono tanto le stelline no viso no collo dov'è ah dietro eh però cambiano di posto signori cambiano di posto di condivisione dove sono ecco questa questa è grande equipaggia busto tutta la schiena butta saints angela un demonio un cavaliere drago sputafuoco no il teschio il teschio colore negro equipaggia schiena in alto no schiena in alto vabbè poi si confonde torso tutto il torso madonna guardate guardate con questi capezzoli coperti la tartaruga ha due tartaruga e lui equipaggia torso in alto un arcobaleno un polipo un dragone due pistole cosa sono vabbè un diamante un serpente il dio serpente capo bastone gli faccio questo serpente per il capo bastone ragazzi andiamo con il capo bastone torso in basso no vabbè torso in basso poi si confonde no 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 sono brutti sono brutti perchè c'è la già la tartaruga braccia braccia destro braccio destro cioè ooooooooh i fiorellini gli facciamo gli facciamo i fiorellini e in quell'altro braccio niente gamba tutta la gamba sinistra facciamo una gamba cioè un braccio destro e una gamba sinistra no però tutto io lo voglio tutto ma senza come si dice senza doppi sensi ragazzi lo voglio tutto voglio tutta la gamba tatuata per specificare i fiorellini pure qua per appinare esci accetta ed ecco no il tatuaggio non si vede no vabbè si vede questo questo pezzo di tatuaggio con la maglia stappa trappata dallo zombo tutti i zombie con l'aureola e con la barba e tutta la periodo del viso blu non l'ho visto mai un personaggio in questo modo vestito uno zombo così va bene ragazzi questa era la demo di oggi purtroppo non posso giocarla e mi dispiace un casino perché volevo provarlo io senza non credo che la faranno perché hanno fatto solo questa demo per per provare come si crea il personaggio non so se farò un altro video con la demo ora vedo ragazzi se dura troppo questo non la faccio se dura così così si se dura poco di sicuro non so se